Ok, voi potete fare il tipo per gli amici se volete, eh? Allora, sacco vuoto, sacco pieno, 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 sacco pieno. Eeeh, hai sbagliato, un applauso anche tu, forza! Un applauso, non l'ho sentito, forza! Sacco pieno, sacco pieno, sacco pieno, forza! Allora, voi che siete da questa parte, mi chiamatevi anche voi. Siamo pronti, allarghiamo le braccia, dobbiamo distanciarsi, forza! Siamo pronti? Io sto riprendendo, concentrati, vinciate l'eliminazione, sacco vuoto! Siamo pronti, sacco pieno, sacco pieno, sacco pieno, sacco pieno, sacco vuoto, sacco vuoto! Tutto è solo, Sofia! Un applauso per voi! Bravi! Se la faccio nella bagnerina la potete accettare dopo la riprendete, eh? Siamo pronti, sacco pieno, sacco vuoto, sacco pieno, sacco medio, sacco pieno! Da questa parte, buon applauso anche tu in cucciola! La bagneria è sua, vieni, forza! Ok, stringiamoci! Lui è il depilato, è il quinto di gente che così non si può vedere! Ok, sacco vuoto, sacco pieno, sacco vuoto, sacco vuoto, sacco vuoto, uno, due, forza! Un applauso! Bravo, com'è che si chiama? Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Siamo pronti, tutti i piedi, sacco pieno, forza! Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti! Siamo pronti, sacco vuoto, ma come sei brava! Siamo pronti, sacco pieno, sacco vuoto, sacco pieno, sacco pieno, sacco pieno! E uno e due, un applauso, forza! Bravi! Come si chiama? Bravo! E tu come ti chiami? Thomas! Bravo Thomas!